Con i negozi e le attività come bar e ristoranti chiusi dal 12 marzo in tutta Italia, diversi esercenti hanno lasciato sulle vetrine delle proprie attività tante comunicazioni ai clienti, queste alcune nel centro di Modena. C'è chi ha scritto tutto andrà bene e chi confida nella responsabilità e senso civico per contribuire in maniera attiva ad arginare la diffusione del Covid-19, augurandosi di vedersi presto. Un altro negoziante ha scritto che al fine di contribuire allo sforzo collettivo la decisione è stata quella di chiudere l'attività per alcuni giorni. Spazio anche ai messaggi più semplici, come più forti di prima, o scritti a mano o sulla lavagna, fino a quelli più perentori, come chiuso per ordinanza coronavirus. Un ristoratore ha scritto che il locale resterà chiuso per tutelare clienti e dipendenti, mentre una tabaccheria ha scelto di rimanere chiuso al pubblico nel rispetto della salute di tutti. Tanti messaggi accumunati dal senso civico, dal rispetto delle disposizioni governative, con la speranza che tutto andrà bene.